La corona del campionato del mondo Trial GP 2022 ha un nuovo proprietario, niente meno che Tony Bow. Il pilota del Repsol Honda Trial Team, secondo nella prova di Ponte di Legno, possiede ora 32 titoli mondiali, con un totale di 16 titoli consecutivi nel Trial GP e altri 16 nell'X-Trial. Il debutto della cittadina alpina di Ponte di Legno come sede del campionato del mondo Trial GP non avrebbe potuto essere più positivo per Tony Bow e per l'intero Repsol Honda Trial Team, anche se il percorso stesso si è rivelato tutt'altro che facile. I corridori hanno dovuto affrontare una prova difficile e facile da fallire, con alte montagne naturali e aree densamente boscose. Al via era piena di fiumi e rocce scivolose che rendevano difficile la presa. Grazie a tutti!